Sull'emergenza acqua del Gran Sasso intervengono anche le associazioni Arco Consumatori e Liberi Cittadini 5 Stelle che chiedono un'indagine epidemiologica e la valutazione dei potenziali fattori di rischio cancerogeno nella provincia di Teramo da inserire nel registro dei tumori della regione Abruzzo. Secondo Arco Consumatori Abruzzo anche i sindaci hanno le loro responsabilità in questa vicenda? Certo, una responsabilità dovuta al fatto che comunque sono soci della Ruzzoreiti quindi tutti i comuni, 37 comuni della provincia di Teramo fanno parte dell'assemblea dei soci in quanto assemblea è sovrana, quindi le scelte politiche che vengono effettuate per il management e quindi per la presidenza passa attraverso la politica. Ora oggi dire che la parte lesa sono i sindaci oppure la Ruzzoreiti francamente mi sembra una cosa campatinaria ma invece la parte lesa è il cittadino. Cosa chiedono dunque Arco Consumatori Abruzzo e l'associazione Liberi Cittadini 5 Stelle? La cosa più importante da cui vogliamo partire immediatamente è un registro per i tumori. La provincia di Teramo si deve cominciare ad adeguare ed avere veramente un registro dove capire quello che sta succedendo e quello che è successo negli ultimi vent'anni anche perché in questo modo aiuteremmo gli esperti a capire veramente la realtà su questo territorio di quello che sta succedendo, di tutte le situazioni e di tutti i casi purtroppo in elevato numero che abbiamo sull'inguinamento dell'acqua, sull'inquinamento del suolo e sull'inquinamento dell'aria. Lei sostiene che c'è stata una comunicazione sbagliata nella vicenda perché c'è un protocollo in questi casi da seguire e non è stato seguito? Io ho visto i fatti e i fatti sono stati quelli di una generale panico della popolazione ma il panico viene quando non si è preventivamente informati sui rischi connessi perché uno sversamento di un momento accidentale non avrebbe dovuto provocare questo panico perché c'è della normativa emanata dal Ministero dell'Ambiente, dall'AMPA che prevede che tutti i sindaci e soprattutto gli esperti predispongano dei piani di emergenza è prima di tutto la valutazione dell'impatto ambientale per incidenti e soprattutto una comunicazione, un piano di emergenza esterno oltre quello interno in cui si avvisa preventivamente, si informino, si devono informare i cittadini sulla pericolosità e quindi sul comportamento. Anche i sindaci lamentano il fatto di essere stati informati in ritardo? Beh, veramente il Ministero dice che sono i sindaci che fa cavalloro la responsabilità di comunicare preventivamente i rischi. Intanto le associazioni Arco Consumatori e Liberi Cittadini 5 Stelle hanno deciso di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento giuridico per la tutela dei cittadini.